Nello scorso video ci siamo lasciati con due operazioni long, una su euro-dollaro e l'altra su sterlina-dollaro, operazioni che ho deciso di chiudere proprio durante la scorsa settimana, quindi il 7 marzo, dopo che siamo arrivati su livelli importanti, sia quindi per decisioni di target grafico che amministrativo, ho deciso di incassare e portare questo profitto all'interno della mia attività di trading. Al momento però sono flat, quindi ho deciso di guardare, quindi attendere nuovi spunti, nuove opportunità nel mercato, sempre però a favore di euro-sterlina o Australia, o se vogliamo anche di yen. In effetti quindi ho un piano operativo che è sbilanciato, nel senso che è tutto a sfavore di dollaro americano, proprio perché è stata confermata la debolezza su questa valuta. Prima di andare a vedere il diario di trading ti ricordo di lasciare un mi piace a questo video, se non sei iscritto al canale iscriviti e attiva anche la campanella. E adesso andiamo a vedere l'aggiornamento sul diario. Eccolo qui, diario di trading che in questo momento è aperto su febbraio, perché su febbraio ho registrato l'operazione long su euro-dollaro. Operazione che avevo inserito il 29 febbraio con il mio classico investimento che ho chiuso appunto il 7 di marzo dopo sei giorni di mercato. Profitto di circa 220 euro ai quali vanno decurtati gli interessi che sono circa 11,90 euro su questa posizione. Lo stesso in concomitanza con l'euro-dollaro ho deciso di incassare quindi anche la sterlina-dollaro, quindi operazione che in questo caso invece avevo inserito il 4 marzo è operazione che si chiude dopo appunto quattro giorni di trade sul livello di 1,28 e che porta questi 179 euro di profitto, ma con, in questo caso, degli interessi molto più bassi. E prima di andare sui grafici, piccola postilla proprio su questo dettaglio, perché quello che voglio farti notare è che effettivamente qui abbiamo avuto un, se vai a vedere, un profit and loss più, diciamo, simile all'euro, ma con degli interessi molto, molto più bassi rispetto all'euro-dollaro. Infatti in una posizione piuttosto simile, questa dell'euro, eccola qui, che va a registrare quindi uno swap di 12 euro, che su questo profitto, che è appunto poco più alto rispetto alla sterlina, però ha uno swap che incide in misura maggiore rispetto all'altro strumento. Questo semplicemente per ricordarti che in questa attività ci sono dei costi che devi sempre monitorare e tenere in considerazione anche nel processo decisionale, se per esempio mantenere per più tempo, più a lungo, un'operazione, oppure chiudere, incassare, quando c'è da incassare e attendere per esempio una nuova conferma, come ho fatto in questo caso. Questo perché? Perché mantenere l'operazione ancora a mercato mi faceva pagare questo swap, che ti ricordo è sostanzialmente composto dai tassi TomNext a due giorni, più una piccola commissione amministrativa che inserisce all'interno dello swap il tuo broker. È un costo che puoi andare anche a ricavare dallo statement del tuo broker, se è G è molto semplice, ma se hai qualsiasi altro broker è sicuramente un'informazione che ti viene fornita. Il tasso, diciamo, lo swap puoi averlo sia positivo che negativo, in questo caso è negativo, quindi attenzione, diciamo, a questo dato, quindi, diciamo, in questo caso incide, incide su questo profitto in misura maggiore rispetto alla sterlina. Comunque, due ottime operazioni che, appunto, adesso ho incassato, ho deciso di incassare e mi fanno rimanere senza rischio sul mercato, nel senso che non ho operazioni aperte, anche se, come dicevo poco fa, sto attendendo nuove conferme, nuovi spunti operativi, sempre a sfavore di dollaro americano. Però, al momento, a rischio, a rischio, non ho niente sul mercato. Passo, quindi, ai grafici. Andiamo a vedere un po' le operazioni. Questa è la sterlina, partiamo dalla sterlina, ripercorriamo un po' quello che è stato il trade su questo mercato. In realtà è stato un trade che non ha richiesto neanche particolari gestioni, perché possiamo vedere che io ho fatto questo ingresso sul trigger operativo, questo trigger FTV, molto bello, che veniva appunto da un'analisi settimanale di quello qui, insomma, possiamo andare a vederlo, quindi un'analisi settimanale che andava a confermare quello che stava avvenendo nel mercato, quindi un'analisi che confermava la tenuta di, in realtà, la falsa rottura del livello 1,26-30, quindi un mercato che tornava in forza, si manteneva sempre sopra questo pavimento che dura ormai da mesi, settimane, e quindi eccoci qua, quindi il primo marzo è avvenuta questa conferma, io sono entrato il 4 marzo alla rottura di questo trigger, quindi rottura che porta subito il prezzo al rialzo, rompe all'inizio, quindi ha rotto anche subito, cioè il giorno dopo, questo livello, l'1,27 circa, rompe, rientra, ma rimane, poi ecco, andiamo a vedere cosa succede, io sono entrato, il prezzo è rimasto sotto, sotto questo livello, qui c'era questa outside bar, quindi questi erano due minimi, diciamo, due livelli di prezzo, minimo e massimo, importanti, una volta che ha rotto questo, questo livello, comunque il mercato viene, come dire, leggermente respinto, ma possiamo vedere come la close, la close comunque rimaneva, sicuramente più alta rispetto, rispetto al presente, comunque ancora su questa zona, come per dire, sono all'attacco di questa zona, cioè c'è molta più pressione, da parte dei compratori, rispetto ai venditori, quindi questo, ovviamente, stiamo venendo da una situazione del genere, dove il mercato effettivamente, sta mostrando forza, questo vuol dire, diciamo, questa è la lettura che stiamo facendo, ora in questo momento, mercato quindi che poi, boom, va al rialzo, arriva su questa zona resistenziale, insomma, zona di vendita, e poi il giorno seguente, quindi eccolo qui, il 7 marzo, il giovedì, questo è il giorno in cui io ho chiuso, il prezzo buca questa zona, e esplode al rialzo, chiude una giornata, molto bullish, invece il prezzo proprio in chiusura, registra il massimo di giornate, quindi insomma, mercato sicuramente molto forte, io comunque ho deciso in serata, di incassare, proprio dopo questa rottura, su questa forza, da parte del mercato, e quindi portare intanto, questo profitto dentro. Il mercato poi, possiamo vedere, è stato ancora forte, il giorno seguente, e crea questa candela, che adesso è stata, diciamo, rotta al ribasso, e quindi crea lo swing, lo swing high, questo è lo swing high, questo è l'ultimo swing low, possiamo vedere, ecco, questa è l'ultima gamba, che ha creato il mercato, lo ritraccio meglio, quindi swing low, e swing high, quindi all'interno di questa gamba, io adesso potrei valutare, nuovi, nuovi spunti long, e dove meglio, se in questa fascia, diciamo, in questa zona, di mercato, anche se in realtà, insomma, lui può venire ancora un po' più giù, comunque dare, nuovi, nuovi spunti operativi, perché questa zona, che lo vediamo, questa è la zona, dove il mercato, è rimasto, schiacciato, per diverso, diverso tempo, diverse settimane, adesso, c'è stata effettivamente, la rottura, al rialzo, questa è la rottura, sul daily, però se vado sul settimanale, molto più chiaro, perché ci sono, molte meno candele, ed ecco che effettivamente, qui si chiarisce, no, il concetto di rottura, al rialzo, quindi un prezzo, che chiude, no, sopra, questa area, ok, quindi questa, che era un'area, sicuramente di, di vendita, di pressione, ribassista, che ha tenuto, il prezzo in realtà, incastrato, qui dentro, anche perché questa, era praticamente, la parte massa, quindi dove invece, c'era interesse a comprare, qui c'è stata, una fase di, mercato laterale, falsa rottura, cioè il mercato, viene giù, quindi c'è stato, un momentaneo, aumento, dei, dei venditori, sono entrati, nuovi compratori, e quindi hanno portato, il mercato, al rialzo, questa è, la legge, la legge del mercato, questo mercato, quindi al rialzo, che adesso rompe, e quindi sopra, questo, questo livello, decisamente, molto interessante, che 1,2760, 2,756, 1,27, ma anche un pochino, più in alto, è molto probabile, io possa acquistare, già questa settimana, insomma, nelle prossime giornate, un, insomma, nuovamente, la, la sterlina, la sterlina dollaro, che è il mercato, che insieme all'Australiano, in realtà, mi piace, di più, questa, questa settimana, per un, per un long, per quanto riguarda, l'euro, ecco, questa, questo è il grafico, dell'euro, anche qui, insomma, situazione analoga, questa era la mia posizione, avevo inserito, il mio, trade long, nella giornata, del 29 febbraio, alla rottura, di questa, pin bar, anche qui, venivamo, comunque, da un'analisi, settimanale, alla rottura, di questa pin bar, ho piazzato, il mio ordine, con uno stop, a 1,0744, il mercato, nella stessa giornata, e l'abbiamo visto già, nel video scorso, era venuto giù, ma teneva, il livello, di pavimento, che, ora, io ho cancellato, ma era la zona, la zona importante, l'1,0880, era praticamente una zona, dove, puoi andare a vederla, anche nell'altro video, o comunque, nei video precedenti, dove io in realtà, già a fine gennaio, avevo fatto uno short, che poi, in realtà, ho chiuso a costo operativo, ma dove si vedeva, che qui c'era, interesse da parte del mercato, e proprio qui, il mercato, che cosa ha creato? Ha creato, come dire, da questo short, lui, torna, ci sbatte su, torna giù, torna su, rompe, quindi crea, questo 1, 2, 3, quindi questo, diciamo, ok, questo movimento, che, confermato da questa pinbar, ma soprattutto, da un, da un weekly, da un weekly, veniamo quindi, con questa, questa pinbar, che, era stata confermata, il prezzo rimaneva, appunto, ancora alto, rispetto a questa pinbar, questo era uno swing low, in area, di domanda, sul livello chiave, importante, e quindi, avevo deciso di fare, il mio, il mio ingresso long, e, il giorno dopo, effettivamente, il mercato, era rimasto, rimasto sopra, sopra il livello, e, quindi, recupera, quindi, fondamentalmente, qui si è creato, un ulteriore, se vogliamo, pimbare in due giorni, questo, diciamo, movimento fake, trappola, che poi, appunto, ha portato, i prezzi al rialzo, anche qui, essendo quindi, un trade correlato con la sterlina, ho preso praticamente la stessa decisione, abbiamo trovato, diciamo, possiamo vedere come troviamo, un movimento piuttosto analogo, nel senso che, nel momento in cui, c'è stata la debolezza da parte del dollaro americano, quindi, venduto su tutte le valute, è stato chiaramente venduto anche su euro, quindi, comprato euro, e qui, dopo un, eh, questa, allora, qui la fase, diciamo, iniziale da parte dell'euro, rispetto alla sterlina, è stato, probabilmente, leggermente più debole, quindi, qui rompe il livello, di 1,08 e 90, e successivamente, nella giornata del 7, boom, chiude questa giornata, molto, molto bullish, io chiuso a 1,09 e 42, il venerdì crea questa indecision bar, anche qui, nella giornata di ieri, è stato rotto il minimo, quindi, anche qui, si è creato lo swing high, quindi, questo è lo swing high, di, eh, l'ultimo swing high di euro-dollaro sul, sul daily, e questo è lo swing, lo swing low, anche qui, quindi, ho un piano operativo, only long su, sull'euro, quindi, mercato, che, se vado un po' a riprendere sul, sul settimanale, vediamo che, effettivamente, viene da, da questo a lungo, e che potrebbe, effettivamente, dare ancora, eh, spunti su, diciamo, su, sulle zone attuali, si è spostato il livello, spunti su, sulle zone attuali, per, per andare in zona, magari, 1,10 o poco, o poco più in alto, dove ci sono stati altri interessi. Effettivamente, se guardiamo poi questa, eh, figura più nel, diciamo, nell'ultimo anno, possiamo vedere come, questo è, il 2023, questo è il 2024, il mercato dell'euro, è stato, sostanzialmente, incastrato all'interno di, eh, questo, eh, questo range, sono circa 500 pips, probabilmente, con questa, eh, che è stata una falsa rottura, che è avvenuta, quindi, a, a luglio, quindi, tra luglio, eh, no, sì, 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 a luglio, insomma, è venuto giù, fino, a livello di nuovo di 1,0550, quindi, adesso, molto probabilmente, potremmo andare almeno, a riprendere queste, queste zone qui. e quindi, questa è la, appunto, la, la struttura attuale del, dell'euro, che se vogliamo, è nell'ultimo periodo, più, più long, ma, nel medio periodo, diciamo, medio o lungo periodo, possiamo notare, come effettivamente, c'è una, una lateralità evidente, quindi, dei livelli, importanti, che vanno tenuti in considerazione, nel, nel proprio, nel proprio trading. Quindi, questa è la, abbiamo ripercorso un attimino, quella che erano, che sono state le mie due operazioni su, sull'euro, due operazioni sull'euro e sulla sterlina, quindi, due operazioni long, entrambe, quindi, contro il, il dollaro americano, e che adesso, effettivamente, possono, possono dare, nuovi spunti. Il mercato che, insomma, mi piace di più in questo momento, probabilmente, la sterlina, e come dicevo, anche il, il dollaro australiano, perché, la, il mercato, effettivamente, al momento, è abbastanza concordo, unanime, no? La dollaro centricità del, del mercato è abbastanza chiara, e lo è per, per definizione, ma abbiamo effettivamente le valute, tutte, in questo caso, tutte correlate in maniera netta, quindi, dollaro australiano, che veniva da, anche lui, da, da questa fase short, ma arriva sul livello di uno zero, di zero sessantacinque, si era venuta a creare, questa pin bar, convalidata, e ha fatto un bel movimento, diciamo, uno, due, tre, adesso, con una price action settimanale, appunto, su, su questa zona, con un, questo, è un doppio massimo, higher close, quindi, questo, doppio massimo, higher close, che è un, un trigger operativo, del nostro metodo, puoi trovare anche, i video, esplicativi, sul, gratuitamente, su, su questo canale, è un trigger operativo, quindi, che adesso, può, può dare, una nuova conferma, su, sul daily, comunque, già abbastanza, bello, sicuramente, e che, ha questa caratteristica, importante, quindi, di avere il minimo, e il massimo, appunto, più, come dire, che vanno ad inglobare, la candela precedente, e la close, soprattutto, maggiore rispetto, al massimo, della candela, che lo precede, ecco, questo è un mercato, appunto, molto, molto interessante, anche perché, dovesse, dovesse rompere il rialzo, effettivamente, potrebbe addirittura, avere anche più, più spazio, per movimento, ancora più, più ampio, e quindi, si potrebbe creare, fondamentalmente, quello che sto dicendo, anche un, un trend, più, più lungo, può darsi, questo, chiaramente, non lo possiamo, sapere in anticipo, però, quello che ha fatto, al momento, il mercato, è sicuramente, interessante, per quanto riguarda, la zona, dove, vorrei andare ad acquistare, io qui ho segnato, questo rettangolino, perché, semplicemente, stiamo parlando, di due zone, possiamo, tracciarlo anche un po', così, ok, sono, anche, diciamo, queste, queste zone, che probabilmente, sono, appunto, confluenti, con, se prendiamo, Fibonacci, di questa ultima gamba, eccolo qui, siamo, comunque, all'interno, del 38,2 di ritracciamento, il 50%, e anche, la zona, di questo box, questo, questo massimo, insomma, queste chiusure, sono, quindi, questi, questi, livelli molto interessanti, ma, è, è, è anche possibile, che, visto, visto il rialzo, e la, la rottura che c'è stata di questa zona, che, lui possa fare anche un lieve, eh, un lieve rientro dentro questa zona, non è detto che arrivi così in basso, e quindi dare, uno spunto subito, proprio, sopra, sopra 0,66, potrebbe, potrebbe darlo. E, al momento, però, questo è solo, è solo un piano, questo è il mio piano operativo, chiaramente, se il mercato verrà giù, e quindi, continuerà a fare qualcosa del genere, a quel punto, se ne riparlerà, la settimana successiva, perché andrebbe a invalidare, fondamentalmente, la, questa, questa view, e quindi, probabilmente, si è trattato di un grandissimo, eh, fake, però, vista la correlazione che c'è stata, nelle, nelle ultime giornate, è, eh, insomma, è qualcosa che, mh, probabilmente verrà confermata, dagli altri mercati, oro compreso. Bene, io, con questo, ho, ho terminato anche questo, questo nuovo episodio, io, ti ringrazio per aver visto il video, vino in fondo, ti ricordo nuovamente, di, commentare questo, questo video, e farmi sapere, se ti piace questo, questo metodo, puoi comunque, condividere anche, quello che, che stai facendo, fai, fai, diciamo, le tue considerazioni, e, fammi sapere, appunto, se ti piacciono i video, e ci vediamo alla prossima, e soprattutto, buon trading, ciao.